Sto bene, sono stanca perché sto andando avanti e indietro del stadio, quando c'è l'atletica mi dispiace, sono molto focus sui atleti. Siete ieri arrivata una medaglia di bronzo con un 19enne nella disciplina che tu ovviamente conosci molto bene, c'era da aspettarsi, l'hai inaspettato, che cosa hai pensato? Si aspettava, se non pensate allora non avete capito, sì sì è normale, lui è in mezzo a queste turn over, quelle grandi, adesso solo rifanno le nuove, è 19enne, ho fatto 8.36, spero voi avete capito, è lontano, è un bel risultato, è giusto, io aspettavo. Di quest'atletica italiana che negli ultimi anni stanno soddisfazioni un po' diverse rispetto ai tuoi tempi, che cosa è cambiato secondo te? Penso proprio agli atteggiamenti delle ragazze, anche le federazioni aiutate a queste ragazze, anche per loro probabilmente capiscono che possono fare tutto il mondo, per essere proprio parte del proprio paraturgonista, perché è una cosa importantissima, perché psicologicamente ho visto io, quando ero sempre io per vincere medaglie, che è molto pesante, ma finalmente adesso è cambiato, perché dopo Covid hanno zerato tutti, sono tutti pari, chi è più forte, chi è intelligente, chi lo sa che c'è talento e poi lo sa per indirizzare, perché il mondo non è piccolo adesso, no scusa, il mondo è piccolo e puoi fare qualsiasi cosa. Senti il futuro del lungo, quindi è italiano? Depende da loro, non da me e da me.